buongiorno cantanti lo sapete che siete quasi mille io vi ringrazio tantissimo sono troppo contenta e adesso ci sarà il giveaway fra molto poco quindi mandatemi via email il vostro nickname se volete partecipare o la vostra email e il vincitore del giveaway avrà tre lezioni gratis o di canto di tecnica di dizione di ritmo di respirazione di quello che desiderate lo decideremo insieme quindi partecipate non dimenticatevi di sostenere il mio progetto iscrivendovi al mio canale tutti quanti buon canto a tutti e a presto ciao grazie